25 persone attendono di conoscere il proprio futuro lavorativo. È incerto l'avvenire dei dipendenti del ramo gas di BIM Infrastrutture. Italgas infatti ha vinto la gara per la gestione della rete oggi gestita dalla partecipata dei comuni, ma non si sa ancora quale sarà la politica relativa al personale. Nel bando, infatti, mancava una clausola di salvaguardia. I dati da cui i lavoratori di BIM Infrastrutture possono partire per un ragionamento sono due. Il fatto che Italgas abbia indicato una riduzione dei costi del personale nell'arco della gestione di 12 anni è il meccanismo per cui l'attuale datore di lavoro deve inviare un'informativa sul licenziamento collettivo 45 giorni prima della data della fine del rapporto di lavoro. A marzo, i lavoratori hanno inviato a BIM Infrastrutture e Italgas una lettera in cui chiedevano l'UMI sul proprio futuro. Attualmente c'è solo la risposta della partecipata dei comuni, che ha precisato il funzionamento del meccanismo dei 45 giorni, ma non ha ancora inviato l'informativa. I dipendenti del ramo gas potrebbero essere assunti tutti da Italgas oppure ci sarà qualche taglio? Al momento si ragiona su un dato la suddivisione tra funzioni locali, tipicamente quelle svolte sull'esistente da operai e tecnici, che hanno ruoli di coordinamento o gestione ordinaria delle reti e funzioni centrali, dipendenti che si occupano per esempio di tarifazione o nuove progettazioni. Se per la prima categoria si immagina un futuro ancora in loco, per la seconda la situazione è meno chiara. I lavoratori rimarranno a Belluno o verranno dirottati su una sede fuori provincia, in una città più grande dove Italgas accentra alcune funzioni? I dipendenti del ramo gas attendono una risposta che potrebbe arrivare solo all'ufficializzazione della data del passaggio delle consegne tra BIM Infrastrutture e Italgas. La partecipata, peraltro, dovrebbe essere incorporata da BIM GSP. Il ricollocamento dei dipendenti del ramo gas non può avvenire in maniera automatica. Chi si occupa di gas fa parte di un settore escluso dal perimetro operativo della nuova società e quindi al massimo potrà partecipare ai concorsi aperti a tutti nella speranza di far valere l'esperienza.